La donna, questo è il movimento e noi facciamo questo esercizio per poter disegnare il nostro lapiz insieme a lei. Dopo di che abbiamo trovato il nostro ase indietro. Una cosa, tu all'indietro non fai questo, non mi manda all'indietro. Ecco, questo no. Più il vostro ase che si sposta all'indietro è poco poco la mano, poco poco la mano. Non la mando così perché se no lo corremiamo senza braccio. Preoccupatevi uomini di cuidarci più i laterali. Laterali, avanti. Ok? Dopo di questo, io vado con la mia gamba destra avanti, pivot su la mia gamba sinistra verso lato sinistra. Ti, ti, quando mi trovo de qua, io de qua, spingo con la gamba per... Cambiar de fronte. Cambiar de fronte. E in una altra volta, aggiungo questo movimento. Uom, ti, ti, tu, uom. Si voglio finire il movimento, chiude quando lei fa il lotto in avanti e faccio pivot. Ora, abbiamo detto che sull'otto in avanti, mi lapiz è contro il giro, diciamo, no? Però l'importante è che devo fare pivot sulla mia gamba di base. Sull'occhio indietro della donna, no devo fare pivot. Devo soltanto disegnare il lapiz. Chiaro? Dopo di qua. Fermo. Parato. Quindi, organizzatevi tutti e due della donna a seguire la quantità e la velocità del pivot, ok? Costunità non possibile! Grazie a tutti! Grazie a tutti!